È rivolta ai bambini ma non solo, la manifestazione Bimbi in piazza che torna a San Nicolo a Tordino da mercoledì 12 giugno a domenica 16 giugno. Sì, quest'anno per la quarta edizione abbiamo preso un po' più di spazio, un po' più di piazza perché gli anni passati ci concentravamo più nel weekend, quest'anno siamo partiti da mercoledì. Ci tengo a dire che l'inizio è fondamentale di questa manifestazione perché partiremo con una bella parata che dall'ex scuola Carlo Febbo ci porterà a Piazza Progresso dove alzeremo i gonfiabili in segno di inaugurazione di questa edizione. Una scelta simbolica, quella di partire dall'ex scuola Carlo Febbo? Assolutamente sì perché è un'area che è molto cara a San Nicolo e nella fatti speciale è sedi San Nicolese che organizza Bimbi in piazza e quindi diciamo che partiamo da lì come simbolo della rinascita di questa area. Comunque una volta arrivati in piazza con la musica dei Murgassasò cominceremo a fare tantissime cose perché le iniziative sono tantissime. Ci saranno principalmente spettacoli per bimbi, musical, intrattenimento, iniziative, gonfiabili, tutto ovviamente gratuito e poi nelle varie serate ci saranno band che portano un po' di musica live a cominciare da... Dico talmente tante cose e qualche volta qualche cosa mi rimane sulla lingua. Il mercoledì ad esempio c'è Claudio Boffa con la giola di Roger Band, il giovedì ci sono i Bim Bum Bam che è una cover band di cartoni animati, di musica dei cartoni animati, il venerdì grandissimi Tequila e Montepulciano, il sabato Queen Forever che è una cover band dei Queen sulla scia del grandissimo successo del film e domenica sera dopo una bellissima sfilata organizzata da Bugli e Belli ed FP Parrucchieri ci sarò io con il mio quartetto che facciamo un po' di musica live. Io poi presenterò durante l'arco di tutte le giornate gli ospiti che saliranno sul palco. Abbiamo una struttura coperta, una struttura all'aperto, se piove potete venire, se c'è il sole e ci sarà il sole venite in tantissimi per cui vi aspettiamo. Bimbi in piazza è una delle manifestazioni che porta più gente a San Nicolato Ordino? Sì, un'edizione, quarta edizione, storicamente veramente la piazza si riempie di tantissime famiglie, di tantissimi bambini che vengono gratuitamente a giocare in piazza a progresso, noi siamo contentissimi come amministrazione di avere a disposizione queste realtà come la San Nicolese che veramente si impegna tantissimo per la frazione ricavato ogni volta lo destina per mille iniziative che poi riguardano proprio appunto la nostra piazza progresso ad esempio dove hanno installato il parco, altre iniziative, la Carlofebbi eccetera. Quindi è una realtà, una società sportiva che veramente ha a cuore la nostra frazione e noi cerchiamo in tutti i modi di agevolare il loro lavoro perché veramente ci aiuta tantissimo soprattutto in questo periodo estivo insieme ad altre manifestazioni hanno ravvivato la frazione di San Nicolato.